683 contagi in provincia di Arezzo dall'inizio della pandemia ad oggi che rapportati alla popolazione è 1,99 ogni 1000 residenti. Per quanto riguarda invece i ricoveri, nell'Asla Toscana sud-est il tasso è stato più basso della regione, 46,4 persone ogni 100.000 abitanti. In valori assoluti 386 persone in malattie infettive ancora più basso invece il tasso di ricoveri in terapia intensiva 8,5 ogni 100.000 abitanti per un totale di 71 persone. La percentuale dei guariti ha inoltre registrato una situazione migliore della media. È l'Asla Toscana sud-est a pubblicare la fotografia di questi cinque mesi di emergenza sanitaria, un'istantanea che ritrae un'isola relativamente felice se paragonata all'intera regione e all'Italia. I dati della provincia di Arezzo sono rispetto ai dati toscani complessamente buoni come numero dei casi per mille abitanti, numero di guariti, è una situazione che è stata tenuta sotto controllo rispetto in generale alla situazione della provincia di Arezzo, un conto è la città di Arezzo, un conto sono le questioni legate alle RSA di Bucine e di Montevarchi che rappresentano i punti in cui il virus si è diffuso di più. L'età media dei 49 deceduti nell'Aretino è infatti di 87 anni, molti erano ospiti delle RSA di Montevarchi e Bucine dove il virus ha colpito più duramente. L'età media dei contagiati ad Arezzo è invece di 54 anni mentre nella sud-est a Sfiore 55. Ci siamo trovati impreparati di fronte a un tunnel che sembrava non avere luce e poi abbiamo messo insieme l'impegno dei professionisti, la volontà di dare comunque delle attività tecnologicamente avanzate ma attenti al lato umanitario. Abbiamo dato ai cittadini la risposta che serviva loro a seconda del bisogno, molti hanno avuto la risposta al proprio domicilio, altri all'interno dell'ospedale, il più possibile negli ospedali di riferimento della loro provincia, con il tasso di letalità minore di tutta la Toscana. E questo per noi è un grande risultato raggiunto con l'impegno di tutti e non smetterò mai di ringraziare ciascun operatore non solo della ASL che ha contribuito a questo. Attualmente nell'intera area vasta ci sono ancora 36 contagiati, la metà nell'aretino. La situazione attualmente è sotto controllo, il numero dei casi che registriamo è molto basso, siamo assai lontani dal quadro che avevamo nel periodo di Pasqua. È chiaro che la situazione è da tenere sotto controllo, i cittadini devono continuare a usare le norme di prevenzione, mascherine, gel disinfettante alle mani. Non ci aspettiamo un quadro simile a quello che abbiamo vissuto proprio perché le norme di prevenzione devono essere, continuate a essere usate.